Dunque per Colombo l'ultima chance, avanza Zeman che secondo taluna indiscrezioni martedì scorso avrebbe incontrato Delicari a Roma. Il boemo si sarebbe mostrato entusiasta e motivato. In caso di avvicendamento Zeman in pole. Sabato intanto l'impegno sul campo del Cerignola, quinto in classifica. Colombo tornerà alla 4-2-3-1. Mora, mediano con Giabua. Davanti delle monache sembra aver superato la concorrenza di Cuppone. Le altre maglie già assegnate giocheranno Merola, Raffia e Vergani. Sommariva sarà l'unica novità del reparto retrato. L'ex Monza rimpiazzerà lo squalificato Plizzari. Fuori per infortunio Craia, domani ecografia di controllo al Polpaccio, De Sogus, Gozzi e il lungo degente Pellacani. L'imperativo è invertire la rotta. Appena 13 punti nelle ultime 14 gare. Così Salvatore Aloi. Che atmosfera si vive oggettivamente all'interno dello spogliatoio? Non è un momento facile. Poi c'è stata una metamorfosi senza voler tornare a fare i soliti discorsi. Però la metamorfosi è stata incredibile perché per 14 giornate il Pescara è stata la vera rivelazione del campionato. Sì, purtroppo siamo partiti fortissimo. Poi abbiamo avuto un calo che ancora stiamo pagando. Però giustamente fa male, fa male perché magari ti alleni con quella brillantezza, con quella lucidità che magari le prime partite stavi e anche a livello di energie mentali magari ne spieghi di più perché quando magari stai più nervoso magari non ti concentri un attimino su altre situazioni. Comunque dobbiamo... C'è anche una questione di autostima, no? No, autostima uno la deve avere sempre, questa è la base. Però ovviamente magari se vinci una settimana l'affrontino il modo, se magari riesci a raccogliere meno punti magari può destabilizzare un attimino l'ambiente. Però ovviamente noi dobbiamo essere pronti a reagire subito a questo tipo di situazione. Senti, ti faccio una domanda sul Cerignola, proprio nello specifico. Abbiamo già detto la sorpresa di questo girone, viene dalla Serie D, 3-5-2. C'è grande euforia, grande entusiasmo. Sì, sì, ovviamente loro staranno carichi, giustamente stanno facendo bene. Classica squadra di Serie C, 3-5-2. Magari ci aspetterà un poco come altre partite che abbiamo visto. E lì dobbiamo essere bravi a creare e a non concedere. E dobbiamo avere quella fame di portare a casa i tre punti perché ad oggi mancano dieci finali e il tempo sta per scadere. Ti faccio l'ultimissima sulla tua carriera, il tuo percorso. Sicuramente hai inciso profondamente Vincenzo Italiano che allena la Fiorentina. Insomma, è chiaramente 2018-2019 a Trapani, grande campionato, vittoria in finalissima, in finalissima contro il Piacenza. Lì giocavi, se non vado in rato, proprio da mezz'ala, no? Sì, sì. Sì, io ringrazierò sempre tutti gli allenatori che ho fatto perché ognuno di loro mi hanno trasmesso chi una cosa e chi un'altra. Giustamente ognuno poi la vede a modo suo. Sì, quell'anno lì ho fatto tutto il campionato da mezz'ala, però l'anno scorso e due anni fa ho fatto anche il play e casomai se dovessi mettermi a disposizione della squadra non c'è nessun tipo di problema.